Il progetto si chiama Remove the Mask e il ricavato sarà devoluto all'associazione Il Dottor Sorriso. Questa è una grande occasione che tu non puoi perdere. L'occasione per fare del bene è per regalare un grande sorriso a dei bambini che hanno bisogno di un grande, un grande abbraccio d'amore.